Un paradiso di design che si affaccia sull'oceano pacifico. Ecco la casa di Natalie Portman. La nuova casa dell'attrice è un vero e proprio paradiso. Situata in California nei pressi di Montesito, è circondata da 4.000 ettari di giardino, ha un bosco tutto suo ed è corredata da una spaziosissima piscina. La casa è costata ben 6,5 milioni di dollari, ma sembra proprio esserne valsa la pena. La sala, ad esempio, con divani in pelle, tavoli in pietra, caminetto e lunghissime mensole su cui sono poggiati centinaia di libri, ha un'ampia porta-finestra da cui poter godere della vista del giardino. Il retro della casa ha una vista mozzafiato, in quanto si affaccia direttamente sull'oceano pacifico, creando un ambiente domestico molto elegante. Il calore delle sedie e dei tavoli in legno, unito ai colori predominanti di mobili e pareti, ovvero il bianco e il grigio, creano un ambiente rilassante e confortevole. Non mancano comodi divanetti e tavolini bassi in legno, per immergersi nel panorama e rilassarsi nel giardino, che non ha nulla da invidiare a quello di un hotel super lusso. Le camere da letto, minimale con pareti e mobili bianchi, hanno tutti un grande e comodissimo bagno privato, dotato di ampia vasca da bagno, con eleganti pareti dai toni del grigio e mobili black and white, ovviamente sempre con grandissime finestre che mostrano la vegetazione esterna in tutto il suo splendore. Grazie a tutti!